Previsioni per oggi. Al mattino, in pianura. Alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, alternanza di sole e nubi sparse. Nel pomeriggio, in pianura. Alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, piogge e temporali anche forti. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura. Coperto con possibili deboli piogge. In montagna, coperto con piogge intermittente. Nel pomeriggio, in pianura. Cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, nubi contemporali anche forti.